Buongiorno Crotone in via Unione Europea. Siamo stati chiamati da un cittadino che abita in questa zona che ancora una volta vuole far emergere che cosa c'è nelle zone della città, ma dobbiamo dire ormai in tutta Crotone, immagini che sono immagini veramente inaccettabili. Parliamo di rifiuti ingombranti, parliamo di cassonetti che sono vuoti, parliamo di una realtà che ancora oggi ci mette di fronte a un disservizio, perché chiaramente i cittadini sono cittadini che non riescono a cogliere ancora l'importanza di portare i rifiuti ingombranti alle isole ecologiche, ma dobbiamo dire che in ogni caso tutti i quartieri della città in questo momento sono così, pieni di ingombranti esposti che poi chiaramente nessuno toglie. Questa è via Unione Europea, ma faremo un giro in altre zone proprio per far emergere questo disservizio e soprattutto quanto sia importante che la città torni ad essere una città pulita. Per fare questo ci vuole la collaborazione dei cittadini, ma ci vuole anche un'azione molto forte da parte della Crea e del Comune di Crotone. Solo così riusciremo forse ad avere la possibilità di dire che Crotone non è la città della spazzatura, ma è la città pulita, una città che guarda al futuro, al turismo in maniera positiva. Buongiorno Crotone.